E ciao ragazzi sono Steve Cristian Pro e oggi ci troviamo in questo nuovissimo video di Solar Smash Oggi tortureremo il pianeta così tanto da farlo esplodere Allora iniziamo subito con dei vortici Spacchiamo l'Asia con un buco nero gigante che ucciderà una umanità intera E ha ucciso 5 miliardi di persone Che danno che ha fatto il pianeta Mamma mia e quanto allora se metto un altro buco nero? Facciamo la buca fino alla bedrock Oddio guardate rimangono mille persone No un miliardo di persone mancano Ok ora se metto un altro buco nero Zero Si è prosciugata l'acqua raga Si è prosciugata l'acqua è diventata cenere Mizzica Quanto calore Faccio così sembra che c'è il sole Ah no c'è il sole di là Vabbè proviamo in un'altra Risperistiniamo il pianeta Con un asteroide No questo mi sembra un meteorite Già impostato perfetto Spacchiamo sempre l'Asia che a me non mi piace Così a caso Ok quanto danno ha fatto? Non mi sembra tanto Guarda quanto arriva Ok allora ne mettiamo tantissimi Andate No vabbè due non messi Ok mettiamo un po' di Asteroidi Ecco qua distruggete il pianeta Ok Ora mettiamo una luna Vediamo Una luna Sta arrivando E vabbè Si sgretola tutta la luna Pum 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 Quanto ha spaccato Mizzica Proviamo dei missili Ok già impostato Via Mamma mia Spaccate tutto E che esplosione super mega Che ha fatto Un po' di Colpi Così Un po' di Super gigante laser Che scioglie il pianeta E vabbè raga Ma un attimo Ma ci sono ancora delle persone vive 38 milioni Sono vivi Ma stiamo scherzando Veramente Ah no Adesso li ho uccisi Zero adesso sono Che strano Che pianeta vogliono vivere 38 milioni di persone Stavano ancora vivendo Uccisi in un colpo Ok questa non so che cos'è Una bomba piccolina Che mi sembra che esploda No aspetta Proviamo a farla esplodere Ok l'ho fatto esplodere Guardate C'è una pallina che rimbalza Cosa stai C'è un blocchino di slime Mettiamo degli alieni Eh però Cosa È scomparso Mi sa che invece di sparare il pianeta Sono andati proprio dentro la lava Ripristiniamo il pianeta Ok proviamo a mettere qua E andiamo a distruggere l'Italia E Ma Che danno hanno fatto? Aspetta che non rimettiamo Che non ho capito Prova a sparare Spara Ha sparato Che danno fa? Ha distrutto tutta l'Italia Mamma mia Che danno Guarda Dopo questa Facciamo l'ultimo Facciamo un serpente gigante E poi questo Che sembrava bello Però Cioè non è tanto buono Cioè Cosa fa Vai Mangia il pianeta E cosa ti sei preso? Il nucleo della terra? No vediamo No non si è preso niente Però Ha sempre un danno Ha fatto Sto serpente Dove vuole andare A prendere I minerali di diamante Perché stanno Stanno subito in basso Oh no Sta sboccando qui fuori Sta mangiando Allora andiamo a distruggere il pianeta Una volta per tutte Acceleriamo il tempo Che non ci ho voglia di aspettare Mettiamone uno Vai Oh è diventato il sole Muore il sole E si il sole E la terra Ok Rifacciamo un po' meno veloce Ok Mi ho messo abbastanza E guardate lo spettacolo Guardate lo spettacolo Della luce Bellissimo 50 astronauti A distruggere la terra Oh però Sto app è bella Sto giochino Ok L'hanno fatto esplodere Poi Guarda che bello E vabbè E continuano a sparare Oddio che bel laser Mizzio quanto lagga il gioco Oddio Adesso sto Nanno Mizzio che bello Guardate Hanno fatto Secondo me adesso Criano un nuovo pianeta Con tutto quel laser Che fanno E continuano a sparare Non ho messo troppi Ecco Ho finito Ora scappano tutte Andate via Scappate Pumbo veloci Inizio Ah c'è l'ora del tempo Sembra che passano Anni E proviamone un altro Adesso Mette Gio Questo è Marte E se lo buco Fino Fino alla fine A parte che non c'è Non c'è nessuno Ok l'ho bucato Che bel buco Cos'è Aspetta Se ci metto la luna Di La luna della terra Ecco vai giù Vai dentro Vai a casa tua Ecco vai brava Bravissima Vediamo se esce da qui Dov'è Eccola qui Mizzica Credo che non ti sei Non ti sei E sì Visto che Gianta Mi ha chiamato Cioè non è che Gio ho rifiutato Però L'ho telefonato Ho chiuso il video Vabbè Dai luna entra Ok Che bella luna però Ma Non dovevi entrare Da quella parte sotto E sì Cosa sta facendo Mamma mia Guarda Cioè non è una luna Non è una luna È un asteroide Un asteroide Un pezzo di Di cacca Che vola nello spazio Perfetto E se invece Mettiamo Asteroidi Dentro No Cioè dovevano Per forza andare A lati Cioè non riescono A mettere Ok vediamo adesso Mangiate un po' Mostri Haccio loro il tempo Che non ci voglio di aspettare E vabbè Quanto l'hanno bucato Bellissimo Proviamo a mettere Vabbè No Sì sì Proviamo a mettere Questo strano pianeta Questo pianeta Non è come gli altri È molto diverso Dagli altri Ha 812 persone Ma non è facile Distruggerlo Perché Ha una protezione Che non gli ho fatto Nessun danno È Intelligenza artificiale Questo sarà il pianeta Del futuro Secondo me Il pianeta Terra Si distruggerà Perché tanto Gli uomini Lo stanno autodistruggendo E io come lo spacco Sta cosa Semplice Basta Spaccare lo scudo Ecco qua L'ho spaccato Veloci E si ricrea subito E non riesce E non riesce a spaccarlo Ma solo con una cosa Ti può spaccare Questo è il più potente Di tutti Con questa cosa Vai Boom Guarda come Resiste Ecco qua L'hanno spaccato Facilissimo Cioè gli alieni Sono più forti Di un pianeta artificiale E Proviamo a spaccarlo Senza questo Tipo con un serpente Tipo così Guarda Non va Non può E il serpente poi scappa Paura Ma dai Che fifone E proviamo a mettere Un po' di alieni Si sono autodistrutti Si sono autodistrutti Ah no Sono scappati Cos'è che ho detto Aspetta Mettiamo questa Oh guarda la pallina Come vola È andata in orbita Non sta Cioè vola È in creativa Ok ora sta camminando La faccio esplodere adesso No Dove Aspetta che Rento il tempo Che non ho visto niente Ok L'ho beccata Ma che Ma non ha fatto niente Ma c'è Come va Cioè distruggerlo Sto pianeta Ah no Mettiamoci queste Ecco qua Non hai più Scampo Pianeta Muori Pum Cioè io Cioè si può distruggere Solo con poche cose Muori pianeta Sì ma Ma c'ha uno scudo Quindi come faccio Ok Ok ce l'ho fatta Muori pianeta Ok ce lo sto facendo Finalmente Piano piano Lo sto rompendo Oh ma Aspetta Ma come si ferma Ma cos'è che si forma Cos'è che c'è dentro Poi al pianeta C'è tipo una Palla gigante Tipo quella lì Aspetta adesso ve la faccio vedere Tipo questa Cioè E' questa qua Colanciato Tipo ma più grande E come faccio a distruggerla Sarebbe bello Cioè il pianeta Ma chi è che ci vive In questo pianeta C'è anche la protezione Ma chi è che Mette Il Questa roba Ok Proviamo a mettere Un altro pianeta Oh Un pianeta Che posso personalizzare Interessante Ah Mi posso cambiare Il colore Della terra Qui della roccia Acqua L'acqua L'acqua non mi piace così La facciamo più blu Eh Però Noi anche se va Ok Ecco qua così Che bella Mmm Bella Però Mi serve luce Ma dai Aspetta che ripristano il pianeta Ok Eh Com'è che si fa Ah Così c'è l'acqua Ok Eh Ma che bello Mettiamo così Ok E cos'è Il pianeta blu Il pianeta blu è E se metto L'acqua che non c'è Diventa Cos'è che diventa Cos'è marrone Diventa Non c'è acqua Faccio così Oddio Così lo congelo Ah È la temperatura del pianeta Oop Allora Facciamo che È un pianeta Che è tutto ghiacciato Piano piano si sta scongelando E l'acqua esce Si sta Ok È tutto un pianeta di ghiaccio Pum Fatto Ok Questo è tipo così Mmm Voglio metterci più terra No Con un proprio così tanta Eh Vediamo Sì però Non posso personalizzarlo Cioè Tipo Però vabbè Bello così Vabbè lo distruggiamo Tanto è brutto Andate a distruggere il pianeta È bruttissimo È bruttissimo Ovvio Ho cambiato Ma dai Ma No no È l'acqua È l'acqua più bella di tutti Vabbè distruggetela Veloce Pum Oddio È diventato il sole Dov'è l'acqua Non vedo l'acqua Ok L'ho distrutto Oh Così posso cambiare l'acqua Temperatura Ma dov'è Dov'è Non c'è niente Eh Vediamo su Realizzazioni Ho dist Ho Distruttito Ho giocato Un'ora No Forse è il tempo Totale che ho giocato In questo gioco Però non oggi Anche gli altri giorni Allora Ho distrutto 146 Miliardi 474 milioni Di No Per di persone In tutto questo In questo Gioco Stelle distrutte Zero Armi sparate Mizzere quante Astronavi distrutte Nove Non ho capito neanche come ho fatto A distruggerle Mostri evocati Se sa Ma forse L'ho distrutti Forse non lo so Ma c'è un altro Però C'è anche Solar C'è non è solo Solar Solar Non so più parlare Solar Ma c'è anche Sistema solare Quindi Oh che bello Cosa faccio Questa cosa Una presentazione Cos'è Ma Un attimo Cosa Oh lo posso prendere E lo posso buttare Nel sole Ah bello Allora Portiamo Anche Ok Vai nel sole Oh un attimo Ha distrutto Un pianeta Oh fermo Aspetta che lo prendo Ecco Vai nel sole Che ti sei comportato male Ok Ma cos'è questo Eh Marte Boh Non lo so cosa sarà Mi sa che ho distrutto la terra Con giove Che l'ho schiantato Oh Buttati nel sole Oh ma che bello Ma come faccio a distruggere il sole Ui Oddio che bello Vai via sole Ma Oddio Aspetta Fermo Ecco Muori Spaccato Sembra un treno Ciu ciuf E pum E Ho visto un altro pianeta Oh fermo te Aspetta che lo impauso Ok Ora lo spostiamo Ui Mmm Ma Oh ma quanti pianeti ci sono Ce ne sono altri E questo pianeta che cos'è Vediamo che pianeta è Oh mamma E per questo video è finito Ricordatevi darmi un bel mi piace Iscrivervi al canale Se l'avete ancora fatto Condividete il mio canale Con i vostri amici E noi ci possiamo vedere La prossima volta Ciao Ciao Ricordatevi di guardare i link del mio canale E però Cioè non solo guardarli Ma entrarci Alla prossima Puntata Vabbè Volevo parlare fino a quando lo distruggeva Ciao Non ci faccio più Dai Spaccati Sei troppo lento Dovevo accelerare Ciao Cioè ciao Che siete morti tutti quanti Guardare Volevo ivido